Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale EsploriSMR Oggi ho deciso, ho pensato di portarvi un video nel quale vi parlo un po' delle serie tv Inizialmente volevo portarvi un po' le mie serie tv preferite, soltanto che io ne guardo veramente tante Quindi ho deciso di portarvi soltanto quelle che sto guardando in questo periodo, ecco E mentre vi parlo un po' di serie tv vi faccio un po' di suoni con quanto accetto che ero qua con me E principalmente in questo periodo non so perché ma sto guardando serie tv a tema un po' horror La prima di cui volevo parlarvi è Sabrina Vita la strega, non so che se si chiama così Comunque la danno su Netflix, è il remake di Sabrina Vita la strega E rispetto alla serie originale ha una tinta un po' più horror ecco E la trovo molto carina e leggero E praticamente vabbè la storia penso la conosciate comunque parla di questa ragazza, Sabrina Che è figlia di uno stregone e un'umana, una mortale E infatti è tipo una strega soltanto a metà E vive con le sue tue zie che sono entrambe due streghe E praticamente la storia inizia con lei che sta per compiere 16 anni E al suo sedicesimo compleanno dovrà appunto scegliere quale delle tue vite intraprendere Cioè quella da comune mortale oppure da strega E niente, è molto molto carina In realtà ho guardato soltanto 3-4 episodi, dovevo ancora finire la prima stagione Però diciamo che per ora mi sto piacendo Poi un'altra serie che sto guardando in questo periodo, che sto seguendo È l'ottava stagione di American Horror Story Anche questa un po' di terror chiaramente come dice il titolo Sono sempre stato un po' un fan di American Horror Story Anche se secondo me con le ultime stagioni non è più bello come all'inizio Infatti quest'ultima stagione però mi sta piacendo È appunto l'ottava e parla... Non so se avete conosciuto American Horror Story comunque ogni stagione Cioè non sono collegate tra loro Generalmente Ogni stagione ha dei personaggi diversi e ha un tema diverso molto Il tema di questa stagione è l'Apocalisse, diciamo la fine del mondo E mi sta piacendo E poi questa stagione è l'unica diciamo che ha molti collegamenti con le altre Infatti, dai mi sta piacendo anche se secondo me sia un po' persa dal tema principale Praticamente parla appunto di che il mondo sta venendo, no? Per un'Apocalisse nucleare non sono ben preciso Emissi nucleare? No, non me lo ricordo neanche Comunque niente, parlo appunto di queste persone o ricchi o persone selezionate Perché hanno un DNA o dal punto di vista genetico non sono qualcosa di utile Vengono selezionate e vengono mandate in questa struttura sotto terra appunto per Per permettere all'umanità di svilupparsi, no? E poi niente succede, non faremo cose E mi sta piacendo Però diciamo che principalmente Solo le prime due puntate erano su questo tema e le altre E sono state molto sui collegamenti con le altre stagioni E... Odio E... Tipo di flashback diciamo Però... Però... Però comunque mi sta piacendo Poi... Devono ancora uscire un po' di episodi Quelli A me piace molto L'amore... Dell'acqua Un'altra serie di cui voglio parlare Si chiama The Hunting of Hill House Oppure solo Hill House Non lo so Quella danno su Netflix E parla appunto di... Questa casa stregata Oddio Questa casa infestata In cui... C'è vita questa famiglia Composta appunto da marito e moglie E poi cinque figli Che sono piccoli E... Si... Ci sono due linee temporali diciamo La prima è quella appunto in cui i ragazzi sono piccoli E sono questa casa La seconda è quella in cui sono cresciuti E appunto... Diciamo che tornano un po' i fantasmi del passato E... E... E' molto bella perché... Cioè diciamo che non avevo aspettative molto alte Invece... Mi ha stupito perché... E' interessante diciamo E ha anche una... Una bella trama ecco Perché di solito... Gli horror... Fanno un po' i bravo magari Ma non hanno chissà quale bravo no? Invece... Questa serie qua mi sta piacendo anche per la bravo Ok... Ok... Poi fatemi sapere... Se conoscete qualcuno di queste serie... O... Quali horror c'è? Se le conoscete insomma... Fatemi sapere... Ok... E... Poi... L'ultima serie di cui volevo parlarvi... E questa non è a Tintaro... Ma... Più thriller diciamo... Si chiama... Le regole del diritto perfetto... E' abbastanza famoso... Adesso sta notando la quinta stagione... E la sto guardando appunto... Esce un episodio ogni venerdì... E' molto interessante perché... Parla appunto... Cioè la prima stagione... Parla... Di questa avvocatessa... E... Che... Cioè... E' cazzotta già... E... Ha un corso... In... Scusate se ci sono dei rumori... Ma c'è un po' di vento fuori... Quindi... Ok... E... Parla di questa avvocatessa... Che... Che vento... Spero che me lo sentiate... Parla di questa avvocatessa che appunto... Tiene un corso in un'università... E di legge appunto... E i suoi quattro ragazzi migliori... Li prende con sé diciamo... Per aiutarla a risolvere i suoi casi... E... Poi... Succedono varie cose perché poi... C'è un omicidio diciamo... E loro essendo tutti avvocati insomma... Cercano di salvarsi... La pelle insomma... Senza... Andare in prigione... Tutte queste cose qua... E poi molto bello perché... In ogni puntata... Cioè... La scena iniziale... Diciamo finale... E' un... Un salto davanti nel tempo... In cui si vede tipo... Tre mesi dopo... Che c'è tipo un omicidio... O comunque una cosa... Che ti tiene un po' gonfiato sul collo... E infatti... Questa serie è una serie molto... Coinvolgente secondo me... E che ti tiene molto gonfiato sul collo... Infatti... Mi piace proprio per questo... E... Niente... Le serie che... Che sto guardando in questo periodo sono... Sono queste qua... E fatemi sapere se il video vi è piaciuto... E... Spero che vi sia piaciuto... E che vi siate rilassati... Appunto... Se il video vi è piaciuto... Lasciate un mi piace... E se volete... Iscrivetevi al canale... E lasciate un commento... E niente... Ci vediamo al prossimo video... Ciao!